Il concorso è uno strumento straordinario, dovrebbe essere usato quasi sempre dal mio punto di vista e per noi è stato sicuramente uno strumento che ci ha permesso di affrontare quasi l'80% dei progetti che abbiamo fatto. Devo dire che sono sempre stati progetti a carattere privato, quindi delle gare, a inviti da privati, ma per noi è sempre stato il modo principale con cui abbiamo ottenuto delle commesse. In Italia poi da un punto di vista pubblico questo strumento da mio parere è usato male, poco e non funziona, quindi sarebbe sicuramente una delle cose che dovrebbero essere ripristinate e riorganizzate in maniera più efficiente. Il concorso potenzialmente, idealmente, è lo strumento giusto per fare l'architettura nel modo corretto. Il vero problema oggi è che soprattutto il concorso pubblico è stato sopravvalutato probabilmente dalle amministrazioni e oggi si pensa che con un concorso si possano avere a bassissimi costi e con bassissimi investimenti una rosa infinita di soluzioni, chiedendo oltretutto ai progettisti di fare degli sforzi considerevoli sul progetto. Ecco, questo oggi forse è veramente una pratica che va un po' rivista. Probabilmente il concorso di idee che in sé, idealmente, ha appunto una matrice estremamente valida è un percorso che ha bisogno di una rivisitazione completa e forse anche di una normativa che lo tenga molto più ancorato a quelle che sono le problematiche della progettazione vera.